Lo switch POE AL 8808 di Alnet ha 8 porte ethernet con velocità di trasmissione gigabit ed è plug and play. Lo switch riconosce in maniera automatica la velocità del dispositivo ad esso collegato e se necessita di essere alimentato in PO. Puoi alimentare i telefoni VoIP e non devi preoccuparti di alimentarli con un alimentatore esterno. Puoi installare lo switch in un armadio REC tramite le apposite staffe in dotazione. Ora ti presentiamo una soluzione diversa. Questo è lo switch AL 8845 PD a 5 porte che puoi collegare all'AL 8808. Lo switch a 5 porte ha la possibilità di essere alimentato in PO senza aver bisogno di un alimentatore nella sede di installazione. Lo switch è in grado di alimentare le lampade a LED, telefoni VoIP, access point, telecamere IP, NETWORKS AND MORE NETWORKS AND MORE NETWORKS AND MORE